Ciao a tutti ragazzi, in questa nuova guida all'acquisto, come avete letto dal titolo, parliamo di sacchia pelo. Vedremo di darvi tutte le indicazioni, di vedere i vari tipi di sacchia pelo che esistono su un commercio in base alla forma, al materiale, alle temperature, a quando si utilizzano, così che da oggi in poi riuscirete ad acquistare da soli, in autonomia, il sacchia pelo migliore per quello che dovrete andare a fare. Iniziamo parlando di come funziona un sacchia pelo. I sacchia pelo, vabbè, come sappiamo servono per dormire, ma come funzionano? Praticamente all'interno del sacchia pelo, la parte superiore del sacchia pelo, quella che non viene schiacciata dal nostro corpo, va a gonfiarsi e gonfiandosi va a imprigionare l'aria. L'aria è un ottimo isolante, veramente uno dei migliori che ci siano al mondo. E quindi cosa succede? Il nostro corpo naturalmente produce calore, quindi noi saremo la nostra stufa che ci scalderà e il sacchia pelo non farà altro che tenere all'interno l'aria calda che noi andiamo a scaldare. Poi naturalmente, in base alla temperatura che ha il sacchia pelo, terrà all'interno più aria, se avremo un sacchia pelo da meno 20 rispetto a un sacchia pelo da più 20, faccio un esempio. Però la funzione del sacchia pelo alla fine è quella di isolarci termicamente dall'esterno e far sì che l'aria che noi riscaldiamo con il nostro calore corporeo non si vada a disperdere. Ma visto che parliamo di temperature, iniziamo a classificare i sacchia pelo in base alle varie temperature. Partiamo dalle temperature più alte. Nel solito i sacchia pelo, quelli con temperature più alte, più o meno sopra i 15 gradi, li si definisce come dei sacchiletto. Questi perché sono sacchia pelo che, genericalmente, si utilizzano magari all'interno di bivacchi, all'interno di rifugi o comunque in zone particolarmente calde. Scendendo in temperatura iniziamo a trovare i primi sacchia peli che vanno bene per i trekking, per la montagna, i cosiddetti sacchia pelo estivi. Quelli che vanno da un range di temperatura che sta tra i 5 e i 15 gradi. Scendendo sempre in temperatura arriviamo in sacchia pelo tre stagioni. Questi sono sacchia pelo che più o meno ricoprono il range dai meno 5 ai più 5. È un range attorno allo zero, come si suol dire, per temperature che normalmente si trovano nel periodo primaverile e estivo. Quindi questo può essere utilizzato praticamente quasi tutto l'anno. Per concludere, alla fine, con i sacchia pelo invernali. Sacchia pelo che vanno dai meno 5 in giù. Esistono sacchia pelo che tengono anche meno 50, meno 40, per fare le spedizioni nei posti più freddi al mondo. E questi sono proprio i sacchia peli, anche i più costosi che ci sono, che hanno un'ottima quantità di imbottitura per tenerci al caldo veramente nei posti più freddi che abbiamo. Questa che vi ho appena fatto è una classificazione abbastanza generica dei sacchia pelo, per avere un'idea più o meno di che temperatura parliamo quando parliamo di una categoria di sacchia pelo. Poi ogni singolo sacchia pelo però ha il suo range di temperature, che adesso andiamo ad analizzare. Normalmente quando andiamo a acquistare un sacchia pelo troviamo indicate 4 temperature. Alcuni produttori ne riportano 3, ma poi vi do uno stratagemma per arrivare alla quarta, senza tanti problemi. Iniziamo con la temperatura più alta che di solito viene riportata, la temperatura massima. La temperatura massima, quella di solito che si tiene anche meno in considerazione, è la temperatura dentro la quale noi possiamo dormire senza praticamente scioglierci. Cioè noi probabilmente suderemo, non così eccessivamente, è la temperatura più alta al quale riusciamo a stare dentro il sacchia pelo, dormirci anche abbastanza in tranquillità, tenuto conto che di solito si calcola però con il sacchia pelo con le cerniere aperte, fuori le braccia e fuori la testa. E niente, è praticamente la temperatura più alta al quale si riesce a stare dentro il sacchia pelo. Iniziamo a scendere a livello di temperature. Normalmente viene utilizzata anche la temperatura comfort. Questa temperatura è strettamente legata al mondo femminile. La temperatura comfort la si utilizza per il mondo femminile, per quella che è la temperatura al quale ci si trova meglio dentro il sacchia pelo. Senza scendere in tecnicismo in quante ore si può stare all'interno del sacchia pelo, una cosa e l'altra. Praticamente questo dato ci dà modo di capire qual è la temperatura migliore al quale utilizzare il sacchia pelo. Parlavo di genere femminile perché questo dato viene utilizzato prettamente per le femmine. Se invece vogliamo capire qual è la temperatura utilizzata per il genere maschile, di solito si parla di temperatura limite. In questo caso la temperatura limite, come per le donne, è la temperatura a cui un uomo riesce a stare all'interno del sacchia pelo, dormirci tranquillamente, senza sudare, senza avere freddo, per tutta la notte. Può capitare però che non siano riportate entrambe. Di solito è riportata solo a temperatura limite o solo a temperatura comfort. Un piccolo stratagemma per ricavare l'altra è aggiungere più o meno 5 gradi. Se abbiamo la temperatura al limite, quindi quella genere maschile, basta aggiungerci 5 gradi per arrivare alla temperatura comfort. I 5 gradi di cui vi sto parlando sono generici gradi di differenza, non c'è uno studio che proprio dice aggiungete 5, però più o meno ci dà un modo di poter capire qual è la temperatura che arriviamo a trovare. E allo stesso modo, se dovessimo trovare la temperatura comfort e non la temperatura limite, ci basterà andare a togliere 5 gradi per arrivare alla temperatura maschile. L'ultimo dato che troviamo indicati sui sacchia pelo è la temperatura estrema. La temperatura estrema è generalmente basata sul corpo femminile. In questo caso è la temperatura al quale una donna può stare all'interno del sacco a pelo per almeno 6 ore senza avere problemi di andare in ipotermia. Questo dato è molto molto importante perché se dovessimo trovare delle temperature un pochino più basse, sicuramente il sacco a pelo ci potrà aiutare a non subire il freddo. Però dobbiamo sempre tenere conto che se dovessimo scendere sotto questa temperatura estrema allora c'è una grande, grande possibilità che la persona all'interno del sacco a pelo possa andare in ipotermia prima delle 6 ore. Va da sé però che va ricordato che queste temperature indicate dai produttori sono un pochino fine a se stesse. Nel senso che loro le calcolano su una base di una persona media con una determinata umidità e via dicendo. Da tenere sempre in considerazione anche la nostra sensazione personale. Ad esempio se io sono un pochino caloroso magari tenderò a prendere un sacco a pelo un pochino più leggero. Se una persona è un pochino più freddolosa magari tenderà a prendere un sacco a pelo un pochino più pesante. Senza stare ad arrivare a estremismi di solito basta avere un sacco a pelo anche di 3-4 gradi più leggero, più pesante che può bastare. Tenuto conto che possiamo sempre anche aprire lo sacco a pelo ad esempio e far uscire il calore. Ora che abbiamo visto i vari range di temperatura a cui poter utilizzare sacchi a pelo andiamo a vedere i materiali con cui sono fatti i sacchi a pelo. Ne abbiamo due. Il sintetico e la piuma. Vediamo di vedere i pregi di effetti di entrambi. Il pregio numero uno del sintetico è il prezzo. Il sintetico costa decisamente meno rispetto a un sacco a pelo in piuma. Qui ho due sacchi a pelo con temperatura comfort a meno 5, uno in sintetico, uno in piuma. Beh, quello in sintetico, se non ricordo male, questo costa sui 100 euro, quello in piuma arriva a 230 e hanno la stessa identica temperatura. Altra cosa da tenere a mente è la comprimibilità del materiale. Come potete vedere il sintetico è grosso, penso due volte quello in piuma. E allo stesso modo anche il peso. Questo qua in sintetico pesa un chilo e mezzo contro i 900 grammi di quello in piuma. Quindi il sintetico di solito è decisamente più pesante rispetto a uno in piuma. Altra cosa da tenere a mente è il calore. A parità di peso il sacco a pelo in piuma tiene decisamente più caldo. Quindi se noi avessimo lo stesso sacco a pelo in sintetico da 900 grammi come questo, probabilmente sarebbe un sacco a pelo da 10 gradi, non da meno 5. Infatti normalmente i sacchi a pelo invernali, che sono quelli che vanno magari a delle temperature più basse, sono fatti in piuma. Cioè non ci sono dei sacchi a pelo, esempio, che arrivano anche a meno 10, meno 15, meno 20 in sintetico. Già trovarne uno in sintetico a meno 5 è abbastanza difficile. Un altro punto positivo della piuma è che rimane soffice più a lungo. Se dobbiamo decidere di fare un investimento a lungo termine, vi consiglio di andare sulla piuma. Perché più lo utilizziamo e più invece un sacco a pelo in sintetico perderà a perdere la sua capacità di calore e tenderà a diventare sempre più inutilizzabile. Però la piuma non è un materiale eccellente, ha anche i suoi difetti. Il numero uno è sicuramente che non va utilizzato in ambienti particolarmente umidi o se il sacco a pelo è bagnato. Questo perché non andrà a espandersi completamente e non terrà caldo quanto indicato. Se dobbiamo pensare di andare in ambienti particolarmente umidi, il sintetico in questo caso è il sacco a pelo migliore. Altro aspetto da tenere in considerazione della piuma è che è un materiale molto molto delicato. Bisogna fare attenzione a come lo si utilizza, come lo si lava, come lo si conserva, questo vedremo dopo. Mentre il sintetico è un materiale che si può benissimo un pochino più maltrattare a livello di utilizzo, a livello di conservazione. Se siamo persone che magari non stiamo molto attenti a questi aspetti, sicuramente magari il sintetico ci viene più incontro. Un altro parametro da tenere in considerazione quando andiamo ad acquistare un sacco a pelo è la sua forma. Questi sono praticamente due tipi di forme, quelli rettangolari e quelli a mummia. A mummia perché vanno a restringersi diciamo sui fianchi fino ad arrivare a piedi, classica forma delle mummie egiziane per intenderci. Qui anche qua abbiamo dei pro e dei contro. Il pro sicuramente della versione rettangolare è che abbiamo decisamente più spazio. Quelli a mummia, soprattutto quelli molto stretti, tendono ad essere in alcuni casi anche claustrofobici. E se siamo persone che ci muoviamo un pochino di notte o magari abbiamo bisogno di un pochino più di spazio, beh quelli non sono al massimo. Altro aspetto da tenere in considerazione sui rettangolari è che sono decisamente più ingombranti. Avendo più materiale naturalmente sono più ingombranti. Ed avendo più materiale, avendo più zone vuote diciamo all'interno, tendono a tenere anche un pochino meno caldo. Motivo per il quale i sacchi a pelo invernali al 99 se non 100% sono fatti con forma a mummia. L'unico aspetto però che abbiamo per i sacchi a peli rettangolari è che sono decisamente più economici. Essendo fatti di solito anche in materiale sintetico troviamo una differenza di prezzo veramente notevole a favore di quelli rettangolari. Infine parliamo un attimo di come si dorme dentro un sacco a pelo perché sono sicuro che qua ci sono tante leggende metropolitane. All'interno di un sacco a pelo si dovrebbe dormire, se abbiamo il sacco a pelo giusto per la temperatura che abbiamo esternamente, con dell'intimo e basta. Cioè noi dovremmo dormire con magari una maglia, anche lana merinos o materiali simili, ma non termiche, dei pantaloni, una calza maglia e basta. Si dovrebbe dormire così all'interno del sacco a pelo. Questo perché il materiale che noi abbiamo addosso deve lasciare uscire il calore e deve dar modo al sacco a pelo di poter fare tutte le sue funzioni, di poter isolarci dall'esterno. Se noi abbiamo addosso altro materiale, di solito tende a far uscire meno il calore e a far funzionare meno il sacco a pelo esternamente. All'inizio questo può sembrare un'ottima idea, del tipo vado a dormire completamente vestito perché sto più caldo. All'inizio sì, questo sì, alla lunga però su tutta la notte i vestiti che abbiamo addosso tenderanno a non avere più così tanto calore perché non sono pensati per tenere calore così tante ore, mentre il sacco a pelo sì. E quindi cosa succede? Che a metà notte più o meno inizieremo ad avere freddo. Quindi la cosa migliore è sempre entrare nel sacco a pelo con dell'intimo e basta. Se proprio dobbiamo entrare i vestiti c'è un solo motivo per il quale dobbiamo farlo è perché proprio abbiamo sbagliato la temperatura. Cioè faccio un esempio classico, abbiamo un sacco a pelo a 10 gradi e ci troviamo a meno 5. Beh allora in quel caso lì sì, dovremo entrare i vestiti perché più materiale avremo addosso, più saremo isolati dall'esterno. Ma come fare a capire se stiamo acquistando un buono o un cattivo sacco a pelo? Beh allora ci vengono in aiuto due parametri. Poi esiste un dato chiamato fill power che ci aiuta a capire quanto può essere buono un sacco a pelo rispetto a un altro. Questo parametro non è altro che il rapporto tra il volume di imbottitura e il suo peso. Possiamo vederlo un po' anche come un parametro che ne va a definire un pochino il calore. Questo parametro lo troviamo indicato sia come fill power su alcuni sacchi a peli che come queen su altri. Praticamente fill power è il nome del parametro e queen è l'unità di misura col quale lo si misura. Possiamo tenere a mente che di solito i sacchi a pelo sotto i 600 queen, quindi sotto i 600 fill power, sono sacchi a pelo un pochino scadenti. Dei sacchi a pelo invece diciamo di media fattura sono quelli che hanno un queen che varia tra i 600 e gli 800 e sono anche un pochino la maggior parte di quelli in commercio. Sopra gli 800 queen abbiamo dei sacchi a pelo veramente top, hanno dei prezzi anche molto molto alti, ma sono anche quelli che offrono le migliori prestazioni. Un altro parametro da tenere in considerazione per capire se stiamo comprando un buon sacco a pelo o un cattivo sacco a pelo, soprattutto quando compriamo quelli in piuma, è la percentuale di imbottitura. Se abbiamo un sacco a pelo con un'imbottitura, faccio un esempio, del 90% in piuma e 10% in altro materiale, è un ottimo sacco a pelo. Un sacco a pelo un pochino più scadente, magari uno che ha il 60% di piuma e il 40% di materiale diverso. Ecco, anche questo è un parametro che possiamo tenere in considerazione quando andiamo ad acquistarlo per capire se stanno comprando un buon o un cattivo sacco a pelo. Per ultimo parliamo di prezzi. Come dicevo, ho qua 4 sacchi a pelo che più o meno vanno a racchiudere tutta la gamma di sacchi a pelo presenti sul mercato. Vediamo un attimo i prezzi che possiamo trovare in giro. Partiamo dal primo, il più piccolino. Questo è un mechillei da 10 gradi, è un sacco a pelo prettamente estivo che lo si acquista attorno ai 50 euro. Che però ha di buono, come potete vedere, che è anche abbastanza piccolo, avendo la forma mummia. Quindi diciamo sacco a pelo estivi in sintetico attorno ai 10 gradi, 50 euro è la cifra che si può spendere. Saliamo un po', qui abbiamo un sacco a pelo che tiene più o meno i 3 gradi, sempre in sintetico, forma rettangolare, di ferrino. Questo qua è un sacco a pelo che ne costa più o meno un'ottantina. Quindi tenuto conto che scegliamo di temperatura, le caratteristiche più o meno sono come quello precedente, se non che rettangolare, il prezzo aumenta, ma non di tanto, perché qui, come dicevo, parliamo sugli 80 euro, si può arrivare a 80, 100 euro. Saliamo ancora di prezzo, qui iniziamo a trovare dei sacchi a pelo che magari sfiorano i 0 gradi, vanno sotto anche sui meno 5, forme a mummia, naturalmente, per questi tipi di temperature. Sintetico, in questo caso, di questo sacco a pelo, è un sacco a pelo che costa più o meno sui 100, 130 euro. E anche qua possiamo arrivare anche fino a 150, se magari sono un pochino più piccoli dal punto di vista del volume. E anche qua, come potete vedere, il range di temperatura si sale sempre, ma non c'è un così grande divario. Diciamo che tra i 10 gradi e i meno 5 sul sintetico, tralasciando forme rettangolari o mummia, il range di prezzo varia praticamente in base all'imbottitura e in base alla temperatura di comfort. Poi si fa un salto enorme, davvero un mega salto, per arrivare al sacco a peli imbottiti in piuma. Sacchi a pelo imbottiti in piuma sono decisamente costosi, è raro trovarne sotto i 200 euro. Non si trovano di solito sopra gli 0 gradi, ma dagli 0 gradi in giù. E che dire, sono i migliori con i loro pro e contro, come abbiamo visto, e possono arrivare ad avere anche prezzi decisamente folli. Cioè sacchi a pelo, magari di marche molto blasonate, che li utilizzano a fare spedizioni nell'Artide o nell'Antartide, che magari tengono anche meno 50, possono arrivare a costare mille e passa euro. In questo caso dipende tutto dalla percentuale di imbottitura, dal livello di queen, come abbiamo visto, e dalla temperatura di comfort. Ma qui veramente i prezzi variano tantissimo. Ma come si conserva un sacco a pelo? Questa è una cosa molto importante per far sì che il sacco a pelo ci duri il più a lungo possibile. Il sacco a pelo è, diciamo, buona norma, se non quasi obbligatorio, tenerlo fuori dalla sua custodia, quando ce l'abbiamo a casa. Per il sintetico, se dovesse rimanere nella custodia, non è un così grande problema, ma per la piuma sì. Per il sacco a pelo in piuma, normalmente viene data una retina, tipo questa, molto grande, in cui andare a riporlo per evitare di tenerlo qua dentro, perché a lungo andare, se tenuto qui dentro la sua custodia, perderà la sua capacità di espandersi, di andare a inglobare aria, e quindi tenderà ad avere una temperatura di comfort decisamente superiore rispetto a quella indicata. Il mio consiglio è, qualsiasi sacco a pelo, alla fine, toglietelo dalla sua custodia, lasciatelo in casa, che è la cosa migliore per il quale vi farà durare il sacco a pelo decisamente più a lungo. Perciò, ragazzi, io vi ho detto tutto quello che so sui sacchi a pelo, nella speranza di avervi aiutato nella scelta del vostro prossimo sacco a pelo, io vi ringrazio per aver guardato questo video, e ci vediamo alla prossima guida d'acquisto. Ciao!